Ho fatto una partita intera su Apex nella stagione 16 con la Mozambique con l'Humberpoint, ho fatto il devasto. Madonna che forte! Easy e via. Questa era una partita da 20 bombe di Mozambique. L'unico problema è che è stata tipo l'unica volta che ho trovato l'Humberpoint in due settimane di stagione. Ovviamente lo dico, il titolo è volutamente esagerato, ironico, è una burla. È clickbait. Ma in verità neanche troppo, perché come avete visto nella clip iniziale, come vedrete durante il video, la Mozambique con l'Humberpoint è tanta roba. E però appunto nel video tier list delle armi di questa stagione che vi ho pubblicato non l'ho messa in alto la Mozambique. Perché? Perché l'Humberpoint, ripeto, è troppo difficile da trovare. Spesso e volentieri non lo trovi a inizio partita quando ti servirebbe per la Moz e la P2020 perché sono armi da inizio partita. Quando lo trovi magari sei già in top 6, top 5, hai già delle armi buone con tanti accessori e a quel punto non è che torni indietro ti cerchi una Mozambique perché hai trovato l'Humberpoint. Quindi trovo che la Mozambique con l'Humberpoint sia veramente difficile da usare, non nel senso che è difficile sparare o altro, ma proprio nel senso che la usi solamente se a inizio partita ti trovi sia la Mozambique sia l'Humberpoint. Però quelle poche volte che succede poi te la puoi tenere per tutta la partita e come nella partita che vedrete oggi, appunto, fa il devasto. Ragazzi vi ricordo che potete supportare il video con un mi piace e con un commento che aiuta tantissimo per l'algoritmo. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale sia per non perdervi i prossimi video, sia per aiutarmi a raggiungere questi 100k e buona visione. Fabio Vietro era il mio insegnante delle medie e non scherzo, cosa? Che figata! No, dimenticato. Ma e ve lo diceva tipo che lui faceva i tutorial su YouTube? Cioè lui vi diceva raga per imparare questa canzone tutorial su YouTube lasciate mi piace, iscrivetevi. Ve lo diceva? Cioè tipo spammava i suoi video YouTube in classe? Che grande, che chad, che chad. Noi 18, volevo tanto le 20. Cacchina, andiamo lì? Sta stagione, io vado avanti sì. Andiamo lì, andiamo lì, andiamo lì. Questa stagione mi sembra un pelino più facile. Io ho un mod zambic e radius. Godo allora. Allora si goda abbastanza, mi salutengo pure. Anzi no, anzi no. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non ho capito. Vieni da me. Perché da te vedo che si fa la scannola brutta, non voglio. Raga sono troppi da me. Ovviamente. Oh non mi fa l'età. No. Ovviamente lo stack che mi ruba la linea. Sì era mio, era mio. Era mio quello che veniva restato, sì. Sì sì. Prego. Grazie. Qua? Hanno restato di qua? Grande. Come fa a non essere morto quello là? A destra. Da me sei fullato viola raga. S'era fullato viola? Eh l'ho colpito viola io, quanto aveva? Eh 30 che. Ah vabbè sì, si era fatto una cella allora. Ma 30 di vita? O vita fullata, cioè vita più armo? Vabbè. Vita più armo. Ok ok ok. Avete bisogno di scelta raga? No. Eh non so, perché io gli ho fatto 30 viola e non l'ho craccato quindi. Cambiamenti di stas season? Sì. Abbastanza. Cioè in verità la fine è... Cioè giocando octane mi cambia solo... Quello è one shot raga. Ma? Cossio. L'acqua, 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 l'acqua. L'acqua, l'acqua. L'acqua, duria. Mi ha... Ho rotto lo su. Lo so, lo so, lo so. Qua? Preso. Preso. Di minchia. Io confermo i mei e arrivo, eh. Madonna che loot! Audio. Impazzisco, c'ho un loot della madonna. Ho un loot della madonna. Allora, ho droppato una cosa sbagliata, ma va bene così. Sta da me. Te li fai. Lo vedo, lo vedo davanti a me. Qua. L'ho visto davanti a me. Oh, hai rotto il cazzo, Dio. Stai ce l'hai là davanti? Era da solo? Sì. Porca madonna. E... Ok, con calma. Quanti ne hai, scusa? Ho lasciato una batteri. Se vi serve, ho lasciato una batteri. Ah, l'hai fatto? Vabbè, allora. Quante batteri hai, Stagat? Cazzo! Zero batteri? E ne ho mollata una là. Ne mollo altre due. Però dovete trovarle. Facciamo la caccia alle batteri. Volete un Phoenix anche? Se ne volete ce n'è addirittura un altro. E di fianco lascio due batteri qua. Ma io... Un altro Hammer Point, figa. Sì, yay, figa. Eh. Madonna. Cazzo, io ho bisogno di pesanti... Eh, sì, pesanti. Vabbè. Di armature. Vaffanculo. Hai capito, Stagat? Hai capito? No, non ho detto vaffanculo, Stagat. Ho bisogno di... Colpi rossi. Trovati. Grazie. Grazie Stefano Yay che mi stai ascoltando durante la live. Grazie. Grazie, Luca. Grazie, Luca. Sempre un piacere. Sempre un piacere avere il loot da partner Yay. Grazie mille. Saranno entrati qua a sinistra? Sono qui alla casa. Ma sempre dentro? La porta, la porta, la porta. Ma a questa porta? Qua. Ma no, figa. Ah, ma quella casa. Vaffanculo allora. Pensavo a questa. 13, l'ho fatta. Potete entrare da là, forse. Grazie. Ha ultato. E... Da dietro? Sì, ce ne siamo accorti, grazie. Quanto, chi, 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 chi Madonna Cioè comunque 63 da qua Che cazzo è la bozza con l'Humberpoint? Tira delle botte da lontanissimo Ora spawn portatele per te Stagach Ah ma non ti ha confermato Ce n'è un'altra anche qua Sono a 7 kill di mozza Madonna, 2 di carabina, 7 di mozza E si torna indietro E si torna indietro Eh io ne ho trovati due però figa Prima di trovare questi due ne avevo trovato uno in tutta la stagione Questa sera a 0 Sono arrivato dalle 21 a mezzanotte per trovare il mio primo Hammerpoint Sono qua a destra Sicuro? Stagach 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 Più avanti, più avanti Mi sa che era una foglia Ehm Eh Boh Se basire non li vede Quindi vi dite Minchia Vabbè io Eh Cioè da avere lobo in team Ma prima avevamo lobo in team Non la trovavo uguale l'Humberpoint No parlando della nuova season L'unica leggenda che veramente serve in team È un ricognitore Cioè serve troppo un ricognitore È troppo Troppo più comodo poter vedere dove sta la gente Cioè più che altro non so in ranked ma in pub Per trovare l'ultimo team che a volte sta full camperato dall'altra parte della mappa Ti velocizza le partite di un casino È il perk più Ma stanno sopra? Più sgrodolante tra quelli che hanno messo Sì 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 stanno qua sopra No sinistra È a checkpoint Ma perché checkpoint non l'hanno tradotto in italiano? Punto Come traduci checkpoint? Check Punto check Punto Check Check come Punto controllo Controllo punto Eh Con questi inglesismi forzati Nico my god Nicola oh mio dio infatti Vorrei fare un rebranding del canale Nico oh mio dio Un rebranding Rebrand Jumpad? C'è veramente una jumpa di fianco Non importa la mia è più bella Prendete la mia così prendo il contatore Sto andando più a sinistra Ce l'hai là davanti vabbè ma Potrebbe essere un ratto c'è un ratto Oh non si prende sotto di noi Ma raga? Ah ma cazzo No che palle scendi Quasi crack questa Nico Guarda Precari dato Madonna Stavo prendendo un enorme scok Stai che c'ero Oh non mi fa luta Ero impegnato a fightare il pattio Sai com'è Madonna Qua di mozza Male male Qua di mozza male male Però comunque siamo a 8 kill di mozza Ambixir 8 kill di mozza su 11 Peccato Se qua fossi andato prima di carabina E poi di mozza L'avrei preso Comunque il pat era in solo Camperato dietro l'angolino Ma io ho il dubbio che il pat Non c'è il pat Non era il primo che abbiamo visto Mi sa che il pat Non c'entrava niente Cioè era semplicemente Ah ok Quindi questo pat Che mi sono trovato nascosto Qua all'angolino accucciato Non c'entrava niente No era Cazzo GFV GFV Ho letto di fretta Pensavo fosse VGF Vero fanboy di Lion Mollo due medikit Pure sto mollando un botto di roba Quanti colpi ho? 360 Insomma Ma non c'è un otturatore migliore Ah ma c'è il crafting Figa l'otturatore oro Tipo Staggach mi prendi dei punti al volo No Eh li hai presi per terra Non al volo Vabbè A parte che qua l'hanno craftato Un otturatore dorato Quindi sarà qui dentro probabilmente No infatti non c'era Non c'era bastardo Inutile che mi rompa il mercato Ho controllato e non c'era Però strano perché l'hanno craftato Perché ne hanno lasciato uno blu Non è vero Non l'hai preso tu Ah c'hai veramente Ah E che shotgun hai? Ok E non ci sono trasmettitori No aggrappati Bravo Cazzo Bravo Non ci sono otturatori Eh otturatori Vaffanculo Ricognitori Torri Qua davanti andiamo a base nord Con le mie parole Ma due per no Sulla mozza Sono là sopra Sono là sopra Proprio Strano Stano Camperati Non li vedo Non si affacciano più Perché hanno capito che ci siamo Per me è da solo No 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 Non può essere da solo È full team È full team sicuro Voi là Voi là Voi là Crack Davanti a me l'ultimo raga Che pal Ma Ti giuro io sto facendo schifo Di Sfruttiamo l'otturatore dorato Ma raga non l'avete ucciso Easy Sto facendo schifo di carabina Cioè sarà che sono diventato me in Mozambique ormai Io mollo la carabina Faccio R45 Mozza Ho lasciato carabina Caricatore oro qua dentro Se volete Comunque l'otturatore d'oro Stra comodo Stra comodo Stra bello L'otturatore oro Hai cambiato le sense di nuovo Sì Vabbè Ah i due peri Intendevi sulla carabina Figa No sulla mozza Eh vabbè niente Eh Eh vabbè ma perché sto giocando all'Imozza Quindi mi è venuto automatico pensare Eh esatto Esatto Quello è già aperto Emlock già preso Quindi qualcuno di Dell'ultimo team forse No non serve Sono qua davanti C'è fallo ormai Però sono qua davanti E sono tre È one shot però eh Chi 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 Curateli 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 Minchia raga Non sto dando un hit Mi fullo e arrivo Vabbè arrivo a fight finito GG Fatto niente Fatto niente Fatto niente Piano piano Shilda Preso uno Preso uno Stai Preso uno Madonna che forte Quanto cazzo è rotta la Mozambique Porco diaz Porco diaz Madonna ti giuro Mozambique con l'hammer point Penso che Da adesso a fine stagione Appena la trovo La prendo sempre Troppo forte Minchia tira delle botte Troppo forte Madonna questa qua Ha fatta full in In tempo zero Tre hit fai Se pigli anche solo Un pallottolone alla testa Di ogni colpo Madonna è Devasto Easy e via Questa era una partita Da venti bombe Di Mozambique Minchia Minchia Eh Sì sì E me upì la Mozambique Un botto Però io non me la ricordavo Così forte Due stagioni fa Quando ci stava L'hammer point prima Cioè sarà che l'ho Sarà che l'ho giocata Anche poco Beh ora ci sta anche L'otturatore oro però No ma cosa che Paglio usare la Mozza Secondo me non ironicamente La Mozza Anche senza Hammer point È a livello degli altri shotgun Cioè oddio ora che hanno migliorato Il pischi per il mastiff Non so però Cioè non è così tanto Più scarsa Già sai l'otturatore viola Figa è un'arma della madonna Pure senza Hammer point Abbiamo fatto 30 Facciamo 31 Facciamo 31 Di cosa E esce 30 win Ah ok Mamma mia Aspettava questo momento Da inizio stagione Era lì a guardare Cazzo quando arrivo a 30 win Per fare il meme Perché? Ma della mozza pure Hanno aumentato Hanno ristretto i colpi Telegram premium Con uno sconto del 35% Wow Davvero Dal 36 a me Dal 36 Vaffanculo Perché a me no? Ah Boh 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 Eh sì Io vado qua Questa casetta No non è vero Vado Questa Esatto sì Sono più belle Io quella sinistra Io vado quella sinistra 13 13 Piedro Tomare Unta Godo L'hammer point No raga Sono morto Non si pusha così Un octane con la mozza Con un hammer point Non si fa Krakatauro la vende Valkyrie Ora Ma dai Vabbè GG Che schifo Semplice Non dico altro Poretta Cioè questa Stava già volando Era già partita E si è presa Un 150 Tipo Sparano ai prowler O sparavano a noi Al volo Sparano ai prowler Sì Ma raga Hanno buttato un ulti di horizon Sui prowler Non ho cato uno Hanno buttato ulti di horizon Sui prowler Raiden shogun Raga stanno fightando Cattivissimi Con i prowler Cattivissimi Sono arrabbiatissimi Cazzo Ma in realtà no Non fightavano i prowler E che fightavano Ah Ne avete noccati Dell'altro team Anche o no Con i prowler Fightavano comunque Io li ho visti Sparare i prowler Sparavano di car E nelle feed C'era No no Infatti non erano loro Comunque questi qua Fightavano i prowler Veramente Tra quanto è l'L1 No adesso No sono salito ormai Vanno via Vai sulla mad mag Uno mi è salito Lo so Mi serve aiuto Vai Cazzo mi nocavo la mad mag Se non avessero Ti coglioni In quel Fresh Fresh Presa Lei Lui lui Lo so 70 Quanto quanto 70 cosa 70 via la Crackato One shot Stai uno di vita Uno Ti giuro Ha tipo due Preso Quanto aveva Aveva due veramente Vero 96 Eh 96 Eh sì 96 perché l'hai colpito prima Figa 96 perché l'hai colpito prima Non aveva mai 96 Sì 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 Io ho fatto 70 A meno 96 Conta te Ma Comunque no Avrà avuto un cazzo Ho fatto il disastro di danni Su questi Madonna Top radius Top radius Playa Minca con le celle ho esagerato un po' Va bene con la dorata Ma Muzzuna Atti io vado qua su Stai prendiamo Sì ma io prendo Ah vabbè No 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 Prendiamo il cazzo Sono su loro Sì Su col Nemesis Tranquillo ora arrivo io di radius Doi cazzi Doi cazzi Doi cazzi Non ancora Sono qua Sono qua Sono qua One shot tantissimo One shot E one shot L'ho fatto 95 flash raga Qua dietro E si sarà fullata Ok Ok Questa stessa è fullata Prova a colpirtela pure Non si è fullata Non si è fullata Da fuck Due ore e mezza Avuto Guardate i flash Sono morto Ho uno che ha fatto guardate i flash Questo qua è il sinistro Presi 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 Oh Dai 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 Che godurioso Onisha Onisha Yamate 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 Ah ma quindi questi non erano i tuoi Ah no ok Sì sì ok L'altro team perché avevano scannerizzato E da dove erano quando abbiamo scannerizzato Non arriveranno mai Vabbè Ui 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 Eh stanno qua Easy Li entrate da là Io li entro da qua Vai Anche se sono pure i safe Ma probabilmente Ma secondo me Ora che noi arriviamo qua No però erano girati verso di te No 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 Sono girati verso di te Erano girati verso di te Eh ho capito Ma per la safe Sì sì lo so Ma vicino perché sono qua Stai da me 40 blu Viola scusami Sì va Eh in che senso Dai Nico Sono a merda Ma non l'ho fatto Ma sono a merda Cosa Ma sono a merda Cosa Ma sono a merda Cosa Basta tu Ma basta Accusarmi sempre Porco cazzo Stavo fightando Quelli davanti Ho capito E stavo fightando Quelli davanti Che devo fare Non ho aspettato No te lo giuro Te lo giuro Ti giuro sul mio cazzo Non ho aspettato No te lo giuro Te lo giuro No te lo giuro Ti giuro Mi taglio il cazzo S'ho aspettato Non ho aspettato Te lo giuro No stavolta figa Cioè a me va bene tutto Ma una volta che non aspetto Non mi accusi di non aver aspettato Cioè di aver aspettato Ma fanculo Non riesco manco a parlare Ti giuro Non ci sto Io non ci sto Io Non ci sto Per una volta che non son colpevole Cazzo Una volta che non son colpevole Una volta in vita mia Una volta che non faccio ressare Ragazzi Quando volete un po' di compagnia Vi aspetto tutti i giorni live Trovate il link di Twitch nei commenti Vi ringrazio per la visione Se il video vi è piaciuto Supportatelo Iscrivetevi per non perdervi i prossimi E buona serata